Io ne ho parlato fra i primi perché c'era tanta richiesta da parte dei turisti, sia coloro che utilizzano l'hotel ma soprattutto dei fruitori della città proprietari delle seconde case. Da lì abbiamo immediatamente sottoposta la questione alla nostra ASL di competenza, ASL Romagna, per verificare nel concreto se l'operatività poteva essere sopportata e affrontata. Abbiamo poi posto a livello nazionale la questione perché invece è un'opportunità. Noi viviamo anche tanto di seconde case e quindi come tale vorremmo che nel godere la vacanza non vi fosse il pensiero di dover rientrare, di dover prendere appuntamenti, di dover rientrare anche solo con il pensiero nel vulnus del virus. Quindi è una grande opportunità e credo che dal punto di vista organizzativo questo territorio sia perfettamente strutturato e in grado di affrontare questa situazione. Anche perché non lo dobbiamo dimenticare, tutti noi apparteniamo al servizio sanitario nazionale e come tale dobbiamo appunto dare risposta di salute, di serenità e anche in questo caso, in questo particolare momento storico di vaccino, in vacanza. Benvenga che ci si possa vaccinare anche in vacanza perché poi la premura di tutti è avere una buona copertura sanitaria con il vaccino, evitando anche che invece proprio in ragione della difficoltà di farlo in vacanza qualcuno sposti addirittura il vaccino a settembre.